Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale! In questo video volevo mostrarvi questo bellissimo ammorbidente spagnolo Allora, il nome di questo ammorbidente è Somar ed è una profumazione di talco A me è piaciuta moltissimo questa profumazione, molto fresca e delicata Il colore, come possiamo vedere, è di questo bellissimo rosa molto chiaro E questo qua è un ammorbidente concentrato, quindi vi durerà molto più tempo di un classico ammorbidente La grandezza è di 2 litri, la profumazione vi ho detto che è veramente una cosa eccezionale Il prezzo, questo qua l'ho pagato 1,50€, quindi il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale Spero che anche da voi si trovano questi prodotti perché questo qua purtroppo è un prodotto spagnolo Io mi sto rifornendo da un negozio che ho stesso sotto casa che sta procurando questi prodotti spagnoli Per vedere un po' le persone come si trovano Visto che questi qua costano anche di meno rispetto ai nostri prodotti che troviamo di solito in commercio Spero che questo video vi sia stato utile Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete i video con tutti i vostri amici Io come sempre ringrazio tutti coloro che mi stanno seguendo, che si sono iscritti al canale Oramai siamo diventati numerosi Spero che si iscrivano sempre di più E noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video